In una recente intervista a TMV, Francesco Graziani, ex attaccante e ora opinionista, ha condiviso le sue impressioni e aspettative sull'Inter per la prossima stagione. Con enfasi ha affermato che i nerazzurri sono, senza dubbio, la squadra da battere. Secondo Graziani l'Inter si è già assicurata l'acquisto di giocatori di alto livello, come Taremi e Zilinski, ed è ancora sul mercato per rinforzare ulteriormente la Rosa. Anche senza nuovi acquisti, ritiene che l'Inter resti la squadra più forte. Graziani è intervenuto anche in una chiacchierata a radio sportiva, dove ha parlato di due giocatori che, a suo avviso, si sono distinti in modo sorprendente in casa Inter. Ha citato Di Marco e Mkhitaryan come giocatori che si sono distinti, oltre a quelli più evidenti come Lautaro Martinez. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per ricevere le ultime novità dai nerazzurri. Francesco Graziani ha individuato Di Marco come uno dei terzini più forti d'Europa, elogiandone la costanza di abilità e prestazioni. Dice, Di Marco? Straordinario. Uno dei terzini più forti d'Europa, senza dubbio. Quanto a Mkhitaryan, Graziani ha messo in luce non solo le sue doti in campo, ma anche il suo carattere e la sua professionalità. Mkhitaryan è un personaggio straordinario. Non lo vedi, non lo senti, gioca sempre, non si fa mai male oltre ai piccoli infortuni di routine, ha detto Graziani. Oltre a Di Marco e Mkhitaryan, Graziani ha citato anche Benjamin Pavar. Ha ammesso di aver avuto inizialmente dei dubbi su Pavar, che ha sempre giocato terzino destro ma si è rivelato un ottimo acquisto, soprattutto nella difesa a tre. Quando hanno preso Pavar ho pensato or chissà. Ma lui si è dimostrato straordinario anche nella difesa a tre, ha commentato Graziani. L'Inter si presenta alla prossima stagione con grandi aspettative. La squadra, che dispone già di una base solida, ha rafforzato ulteriormente la propria rosa con acquisti strategici. L'arrivo di Taremi e Zilinski aggiunge spessore e qualità alla rosa, mentre la versatilità e il talento di giocatori come Di Marco, Mkhitaryan e Pavar aumentano le opzioni di coach Simone Inzaghi. Con una rosa solida ed equilibrata, l'Inter è posizionata per competere su più fronti, tra cui Serie A, Coppa Italia e Champions League. La fiducia di Graziani nelle potenzialità della squadra riflette un sentimento condiviso da molti tifosi ed esperti, che vedono l'Inter come una delle favorite per vincere titoli importanti la prossima stagione. E tu, tifoso dell'Inter, cosa ne pensi delle dichiarazioni di Francesco Graziani? Sei d'accordo con la sua visione della squadra e dei giocatori in evidenza? Lascia la tua opinione e metti mi piace per altre notizie sull'Inter. Grazie Grazie a tutti